Coppia di anziani vicentini va in vacanza e i ladri gli svaliggiano la casa in via Adenauer in città. Spariti i gioielli per diverse migliaia di euro. A fare la mala scoperta, la figlia della coppia è andata nell'abitazione per fare alcuni lavori. Non riuscendo ad aprire la porta blindata, ha chiamato il fabbro. Una volta entrata, l'abitazione era completamente a soquadro e i gioielli spariti. Montegalda. Due bosniaci sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. E' entrambi, un 45enne e un 76enne, residenti e attori di Quartesoro, sono stati riconosciuti tramite la targa del loro mezzo, dalle telecamere di sorveglianza di un'azienda. Le indagini erano partite dopo la denuncia del titolare di una ditta alla quale erano stati sottratti nella zona artigianale di Montegalda cavi di rame per un valore di 100.000 euro. Ladri in azione alle officine meccaniche Zanetti, ignoti, sono penetrati all'interno di uno dei capannoni e in due ride distinte hanno rubato sei anelli di bronzo, due contenitori con suoi 100 kg di bronze e un albero navale in lavorazione per la Fincantieri, per un valore complessivo di oltre 7.000 euro. Sul furto indaga la polizia. Schio. Arresto da parte dei carabinieri della locale compagnia di un nigeriano residente a Torre Belvicino per possesso e spaccio di droga. Il giovane 25enne, pregiudicato a nulla facente, si stava girando in zona Duomo con fare sospetto. Quando l'auto della radiomobile gli si è avvicinata, il soggetto è fuggito per le vie limitrofe dirigendosi verso il quartiere Santa Croce, dove lo stava aspettando una squadra in abiti civili che lo ha bloccato. Ad una prima perquisizione gli sono stati trovati addosso due grammi e mezzo di cocaina e un grammo e mezzo circa di eroina. Al successivo controllo nell'abitazione i militari dell'arma hanno trovato più di 8 grammi di cocaina, quasi 600 euro in contanti e 7 telefoni cellulari, ora al vaglio degli inquirenti per setacciare le rubriche. Il nigeriano è stato trasferito al carcere di Vicenza in attesa del processo di convalida.